ciao a tutti ragazzi nuova promo per fc24 siamo di fronte all'aggiornamento andiamo a vederlo insieme mi raccomando andiamo in game ultimate team fc pro live sono le carte le abbiamo viste qualche giorno fa già dagli spoiler sicuramente lo zano perché c'era già lo spoiler andiamo a vedere se c'è qualche qualche novità ok vediamo notizie nulla è incartato ovviamente perché l'ho appena eccolo qua gli oggetti fc pro live sono disponibili per 24 quattro giorni vedete quattro giorni vabbè già qua mi sembra strano r3 vediamo cosa fa niente mi porta al negozio quindi ok non c'è nulla andiamo però a vedere andiamo a vedere partiamo dagli obiettivi gli obiettivi la stagione l'ho finita ok allora di fc pro pendo diogo iota cos'è che ci droppa cosa ci droppa vediamo sto incartando vengono qui ci troppa uno iota 86 beh si sblocca vabbè facilmente però vediamolo vediamolo vediamo l'attributi vabbè non è neanche male poi è gratuito però non c'è il modo di vedere come come si uppa ok vabbè sbloccatelo perché ovviamente è interessante questo è perfezionista dove gioco ah ok mi dà pacchettini ci sono un po' di punti esperienza da fare perfezionista rompi cavo fc pro live sfida fc pro live mark 11 ah ci sono tutte le scr da far fuori perfetto che ci dà pacchettini ci dà punti esperienza ah c'è quella di obron grandissimo quindi vabbè ok quindi andiamo a vedere questo è il giornaliero e ci dà o qualcosina ok andiamo a vedere l'SBC allora andiamo a vedere l'SBC andiamo a vedere l'SBC è carina però come cosa perché dà un senso di senso al competitive nel senso che ci sta dicendo che esiste il competitive e quali sono i protagonisti del competitive vediamo un po' l'SCR quindi le sfide creazione rosa questo lo mettiamo nei preferiti allora eccolo qua mark 11 manu baciorra mettiamo nei preferiti un attimo e basta ivring lozzano anche qui basta non c'è nulla cosa sta roba allora lì ah bella questa non vedo nient'altro l'arappino la krieger no basta qua non vedo più più nulla da sbloccare esatto termine preferiti allora dai mark 11 è una sfida dedicata al pro marco 11 vediamo cosa vuole cosa fa ok e cosa fa vediamo è una sfida SCR ci dà un pacchetto carina come cosa dai sfide creazione rosa con un pacchettino in cambio dedicate ai protagonisti della parte competitive vediamo quella di manu baciorra cosa da un orario piccolo e marco 11 un pacchetto orari ok vediamo lo zano vediamo lo zano vediamo lo zano velocemente le statistiche le guardo in un video ad hoc in funzione aggiuntiva eccolo qua allora lo zano è assegnato a manu baciorra praticamente quindi se manu gruppo c come cavolo hanno scritto a ok manu baciorra ok lo zano è fatto così base perfetto se ottiene tre punti lo zano si becca un più uno se baciorra prende sei punti nel prossimo nel prossimo evento sportivo dedicato si becca sei punti un più uno in stile di gioco normale più un ruolo alternativo quindi un playstyle aggiuntivo più un ruolo alternativo ok se baciore prende 10 punti aggiornamento più uno come se fosse if qualificazione un altro if più un playstyle se vincesse il torneo abbiamo un più uno un più uno a mossa abilità e un più uno a piede debole andiamo a vedere un attimino cosa ha lui perché beh 4 andrebbe a 5 abilità in caso di vittoria di baciore 4 debole sono mica male ha solamente degli argento non dice stile di gioco plus allora con 6 punti si becca un altro argento perdon con la qualificazione un playstyle plus beh dai non è male quanto costa questo zano non lo guardo dopo in qualche in qualche sbc ok non è davvero niente male però volevo capire se sul mercato devo vedere foodbin se si è mosso qualcosa perché questa qua in sbc ok però sul mercato ci sarà qualcosa allora foodbin non ho visto nulla c'è qualcosa di nuovo ok cambiamo attimo la schermata e beh ce n'è quindi william colomoni quindi vabbè diago iota è sbloccabile mani lo zano è qui delle ali malen simacan caramo philips fabinio tovin culibali ogbon e locatelli che dovrebbe uscire nel sbc credo però vabbè vediamo ok però vorrei capire da qui però ho detto la cavolata perché ok su foodbin abbiamo visto che ci sono ok però se noi andassimo a cercarle nelle rose dovremmo trovarli mettiamo il filtro credo che non l'abbiano ancora messo non mi pare di vederlo no però cerchiamo ne cerchiamo ne uno cerchiamo locatelli dai cerchiamo locatelli vediamo come viene sperimentali si eccolo qua 87 ok quindi qui possiamo andare a vedere tutti questi giocatori a chi sono stati assegnati praticamente quindi ad esempio locatelli è assegnato a cohen ok vediamone un altro vediamo vediamo adesso stavo cercandone uno a caso vediamo ogbonna vediamo lui poi sicuramente uscirà la lista di tutti quelli associati ad esempio ogbonna è stato associato a garo di antonini quindi quindi a seconda di cosa fare di cosa faranno appunto questi pro player questi giocatori si prenderanno un bel più uno cavolo non è male eh cioè non più uno alla volta nel senso a seconda dei punti come come raccontavo prima si beccano dei potenziamenti quindi non è male questa cosa perché un po' ti porterà i giocatori medi a seguire il competitive da spettatori è bella come cosa mi piace mi piace questa cosa è molto interessante devo dire sarebbe stato oh attenzione scusate devo andare a vedere i trasferimenti subito al volo i trasferimenti perché stavo facendo come al solito un po' di calcio mercato via e butta dentro quindi dicevo non è assolutamente male come cosa cerchiamo ancora uno vediamo vediamo Sadio Mané a chi è stato associato costa tantissimo Sadio Mané però qui è anche complicato no se c'ero sbagliato è anche un po' complicato riuscire a dire cavolo quel giocatore qua compratelo perché potrebbe alzarsi o meno è anche vero che i come si chiamano i giocatori i pro quelli un po' più conosciuti quelli che hanno fatto più o meno la storia negli altri anni ovviamente vengono guardati un po' come dire con una sorta di scommessa maggiore no si stavo cercando Abrum Bravissimo Mané vabbè Sadio Mané Sadio Mané è stato associato a Idalgo ok eh e qui c'è proprio da speculare in maniera incredibile perché bisognerebbe andare a vedere l'elenco di tutti i pro player e fare un po' di previsioni carina come cosa però dai carina 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 io ho i capelli a casissimo però va bene così ok allora 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 io in questo momento direi andiamo sul footbine al volo li vediamo al volo cambiamo di qua perfetto allora abbiamo detto Locatelli non è neanche male questo Locatelli non è neanche male è che allora abbia fatto la carrellata non ha senso analizzarli così perché bisognerebbe avere poi l'idea di avere l'elenco delle associazioni facciamo una cosa fermiamoci col video perché diventerebbe troppo lungo non facendo una carlatona al volo posso dirvi che sono comunque tutti giocatori abbastanza interessanti questi qua sono di 87 soprattutto qui non è male che Fabinho non è malvagio buono anche Philips beh sono dei bei giocatori lui no anche lui un po' meno beh però Colomoni non è neanche William forte questo William non è neanche male beh bene ok dai perfetto e non ho informazioni qui no non vedo nulla che potrebbe aiutarmi sull'associazione no niente dai attendiamo un elenco completo poi faremo due conti torniamo in regia un attimo così c'è questo ciuffo che non riesco a sistemare va bene così ok dicevo direi che adesso abbiamo visto l'aggiornamento quando avrò l'elenco completo di tutti i giocatori dei pro associati a queste carte faremo un po' di conti per capire quali giocatori potrebbero effettivamente arrivare in fondo e quindi su quali calciatori virtuali andare poi a investire conto difficile perché comunque tutti i pro che sono iscritti però qualificati alla fase finale sono tutti forti quindi ovviamente diventa davvero difficile però bello un bel giochino mi piace mi piace bella gg questa mi è piaciuta ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa promo e se avete già idea di qualche previsione di qualche pronostico come al solito ragazzi follow the channel to mi piace il video ci vediamo al prossimo film ciao a tutti